Buongiorno Lupi, bentornati su RomaFans, io sono Rudy Zlatan e manca un giorno in meno alla partita di Napoli quindi non vediamo l'ora che arrivi questa domenica, oggi invece trattiamo vari argomenti che sono insomma intorno al mondo Roma ma io vi ricordo prima di tutto di seguirci su tutti i canali social, quindi di iscrivervi a questo canale di seguirci su RomaFans YouTube ma anche su Instagram perché no TikTok, visto che ci siete TikTok oggi sono veramente euforico perché è arrivata la notizia spaventosa, cioè Hendrik vicinissimo alla Roma oddio, così ho un po' esagerato, però effettivamente sta rimbalzando questa notizia su tutti i giornali non solo italiani, non solo pagine della Roma o giornali della Roma ma anche qualcosa di europeo quindi se ne parla veramente sembra che il Real Madrid abbia aperto effettivamente al prestito di Hendrik in questa campagna invernale, campagna ad acquisti, campagna di mercato, come si dice? campagna di trasferimenti, campagna di trasferimenti invernali e la Roma dovrebbe essere fra le papabili perché ne parliamo? Perché sicuramente è una notizia inverosimile ma che stuzzica stuzzica talmente tanto che mi ricorda quando Neymar stava ancora al Santos e si parlava di un possibile aperto alla Roma, in quel caso ne avevano parlato solo tipo 3-4 riviste predatorie della S Roma in questo caso la notizia sembra essere riportata da più fonti, quindi è leggermente più credibile anche perché non si parla di acquisto a titolo definitivo ma si parla di prestito di un calciatore che ha un talento straordinario, naturalmente, appena 18enne arriverebbe in un campionato molto complicato, è vero, ma lui ha comunque, abbiamo visto, insomma hanno speso tutti quei soldi, non a caso del Madrid ci ha abituato poi a fare colpi così che magari possono sembrare anche azzardati, stile Vinicius, poi si sono insomma dimostrati essere investimenti giusti e mirati per il futuro. Hendrik sarebbe un calciatore che a noi piacerebbe tantissimo, come avevo riportato infatti era un calciatore che ci avrebbe stuzzicato leggermente come Neymar a quel tempo, perché può essere possibile? Secondo me, perché naturalmente la Roma sta cercando un vice Dobrik, non credo che la Roma abbia la possibilità in questo momento di spendere soldi cash, cioè andare da una squadra a dire quanto ti serve? 25? 25? 25. Quanto vuoi? 12? 12. Nemmeno questo si può fare per quanto riguarda la Roma, a parte che poi è complicato a gennaio perché molte squadre non vogliono privarsi dei loro prezzi migliori a gennaio, quindi o dovresti spendere molto in più rispetto a quello che è il prezzo magari del cartellino normale per ingolosire la squadra che lo sta vendendo il calciatore, altrimenti fai proprio fatica, a meno che non vai da una squadra in grossa difficoltà, la prendi per il collo e porti a casa, però chiaramente le opzioni sono limitate, quindi la Roma non credo abbia questa potenza finanziaria, economica in questo momento, poi magari i Fritz i Fritz ci smentiscono, ma non credo che sia questo il caso, quindi Hendrik potrebbe essere effettivamente plausibile perché? Per questo motivo, ma anche per il motivo ambientale. Vi spiego meglio, sicuramente per un calciatore, per un ragazzo di 17 anni dove il mondo improvvisamente comincia a parlare di te e poi vieni sballottolato dal Brasile al Real Madrid, seppur accompagnato da tanti campioni sia del passato che del presente brasiliani che ti possono facilitare l'ambientamento, è molto complicato. La pressione che si vive a Madrid è molto, molto, molto pesante e giustificata perché comunque stiamo parlando della squadra tra le più titolate al mondo, hanno vinto 11 Champions League, sono rimaste 10, non lo so, comunque sono tante e quindi ci interessa ben poco. Sono una squadra che veramente rappresenta insieme forse a poche altre il calcio nel mondo, quindi la pressione di Madrid è assolutamente giustificata. Per un ragazzo che arriva quindi dal Brasile, dove seppur la pressione è comunque alta perché in Brasile il calcio è la cosa più importante dopo probabilmente Gesù Cristo, visto che sono molto cristiani, così si dice, così io so. Cosa volevo aggiungere dopo questa cazzata che ho detto? Che sì, la pressione è molto alta, giustificata soprattutto in una stagione dove il Real Madrid non sta brillando, dove sta incontrando delle difficoltà, non è facile lanciare un ragazzo come Hendrik che anche se venisse lanciato qualche volta ha giocato, non ha giocato tantissimo, comunque non è messo nelle condizioni migliori per potersi esprimere. Però è anche vero che Real Madrid una volta che spende così tanto per il calciatore è perché vuole, pensa di poter avere questo calciatore per 5-6 stagioni che lo possa portare trascinare a tre fai importanti come è stato per Vinicius, ma ci sono anche tanti altri esempi che adesso non mi sovvengono perché poi fotte sega a me del Real Madrid, ma anche va detto chiaramente. Perché la Roma è una buona opzione? Perché, l'ho detto anche Fabio Capello, a Roma c'è una pressione che è molto simile a quella di Madrid, ingiustificata perché Real Madrid ha vinto 800 titoli più di noi, però noi effettivamente abbiamo un'aspettativa, creiamo un'aspettativa, una pressione, parliamo così tanto della Roma, basta pensare a questo canale come ce ne sono altri milioni, basta pensare a quante radio, a quanti giornali, a quante volte ci incontriamo per stare a dire, o mai stai, o mai, insomma, cioè la pressione di Roma è molto alta comparabile a quella di Madrid. L'ho confermato anche Fabio Capello, il nostro tecnico tattico, e per questo motivo secondo me sarebbe una scelta intelligente sia del Real Madrid, in quel caso, cercare di trovare una piazza che possa avere le stesse difficoltà rispetto a quelle di Madrid, dove però il ragazzo ha più possibilità di sbagliare, perché magari ha più possibilità di giocare, ha più spazio in campo e quindi ha anche meno pressione, nonostante la pressione della piazza è alta, perché non è di proprietà della squadra che lo prenderà appunto in prestito per sei mesi. Ma anche secondo me sarebbe intelligente mossa dell'entourage del calciatore, perché arrivare a Roma, che comunque ti dà la possibilità di fare un'esperienza importante in una delle città più belle, anzi la città più bella del mondo, per te calciatore penso che voglia dire molto, l'entourage del calciatore sa che comunque una delle cose più importanti è riuscire a sopperire o superare questo ostacolo che è rappresentato dalla pressione, per di più la Roma, disegnata come è disegnata adesso, se vuoi utilizzare un modulo come il 4-2-3-1, Hendrik potrebbe avere veramente tanto spazio, perché se non sbaglio, e qui io alzo le mani, non l'ho visto granché, ho visto le immagini che abbiamo visto tutti praticamente sul web dei gol splendidi che faceva, mi sembra un calciatore che può giocare prima punta, seconda punta e anche esterno di un 4-3-3 alto a destra. Poi io alzo le mani, perché voi mi direte, ma che cazzo Stradino ha mai fatto, non lo può fare, è scarso? Va benissimo, forse avete ragione voi, ma ho questa impressione qua e quindi nella Roma potrebbe avere spazio, ma ci crediamo un per cento ragazzi, infatti ho dedicato anche troppo tempo a questa cosa di Hendrik, direi di muoverci verso altro, perché un'altra cosa che a me è veramente dispiaciuta, però a un certo momento sembra che veramente lo stai facendo apposta è che Hummels praticamente tornerà forza ad allenarsi quest'oggi, perché ha avuto un attacco febbrile, quindi c'è avuto la febbre, e prima non giocava perché è stato fuori senza allenarsi per tanto tempo, e poi dopo non gioca perché in D-Grad centrale fa troppo bene, non posso spostarlo, quindi no, preferisco Celic e Angelinho, Bercetto, ma D-Gap proprio non si può spostare al centro, Hummels, confronto a Angelinho e Celic, è scarso, non può giocare, quindi non gioca. Poi dopo, scelta tecnica, perché? Perché io penso quello che faccio giocare meglio rispetto a E non gioca manco lì, adesso arriva Ranieri e tu aspetti, diciamo finalmente vedremo Hummels giocare un minuto, quindi un minuto, no, perché c'ha la febbre. Quindi in qualche maniera ci sono due opzioni in questo caso, o qualcuno ha fatto un malocchio impressionante ad Hummels, oppure lui in qualche modo dice, oh se io non gioco un minuto fino a gennaio magari mi libero facilmente a zero, perché a me mi viene da pensarlo adesso, io mi sono stancato, francamente vorrei vedere Hummels giocare con la mia squadra e vorrei vederlo giocare come ci ha dimostrato che sa giocare in tutti gli anni passati, non nella versione che Juri ce li preferisce qualcun altro perché è talmente regredito. Oggi reggevo, e spero che non sia così, che dei test fisici dimostrano che Hummels è un po' indietro rispetto ai suoi compagni, io penso che possa essere riferito ad un allenamento specifico, magari dove, tornato dalla febbre, non era in bellissima condizione, ma non posso immaginare che lui dopo due mesi che si sta allenando ormai con la squadra sia ancora così indietro, perché cioè non è che stiamo parlando di numeri ottami, c'ha l'età che c'ha, ma non è manco un 41, non è Totti che dice no adesso torno a giocare e dopo dieci anni che ha smesso, cioè secondo me speriamo che non sia così ragazzi, perché altrimenti si fa veramente dura, ma io non credo che sia così, sono le cose che si riportano sui giornali, tipo Hendrick alla Roma, tipo Neymar, alla Roma quando fu il tempo, ma perché Neymar adesso? Vabbè, ne parleremo in un altro video di questo. Un'altra cosa che mi sarebbe piaciuto parlare oggi perché ho sentito le parole di Cassano in riferimento ai Frickin e in riferimento alla scelta appunto di prendere Claudio Ranieri come allenatore. Devo dire che dovete capire il personaggio, a me piace molto seguire quella che una volta si chiamava BobboTV, adesso come si chiama? Non lo so, non me ne vogliano, però mi piace molto seguire Adani, Cassano e Ventola, voi direte ma come? Quello spara un sacco di cazzate e naturalmente state parlando di Cassano, odia Adani perché molti pensano anche Adani. Io devo dire che dovete capire i personaggi, cioè secondo me chiaramente non si può essere sempre d'accordo con loro, io non lo sono spesso, però bisogna capire anche il personaggio, cioè Cassano ormai si è capito il personaggio, è molto schietto e anche molto, non c'è un termine vero e proprio per poter spiegare Antonio Cassano ma è l'uomo del non c'è sta grigio, cioè bianco e nero, cioè se tu non stoppi la palla come Maradona sei una pippa, se tu non disegni calcio come Totti sei un coglione, se tu non fai una scelta giochista, mettiamo ora così, visto che ormai c'è questo discorso tra giochista non giochista, cioè se prendi un allenatore che non fa del calcio aerioso, di partecipazione, di braccetti che diventano mezzali, che vanno dentro al campo, che si allargano mentre le ali fanno la pasta e il caffè per la punta che intanto retrocede e allora non sei un allenatore di calcio. la vede così, quindi naturalmente non è che poi sta dietro Antonio Cassano tutto quello che dice, però prendi il personaggio, lo hai capito, lo hai inquadrato e insomma gli dai il peso che gli si può dare. A me piacciono, soprattutto a Dani devo dire, quando fa le telecronache è troppo figlio del suo personaggio, perché ha un po' esagerato, è andato leggermente al di là di quello che secondo me era giusto fare, però quando parla di calcio con trasporto, con emozione, rapportandolo alla vita, secondo me ci sta, ci sta la grandissima, perché ne abbiamo parlato spesso anche qui, il calcio è un'espressione della vita, quindi calcio e vita sono l'uno dentro all'altro e quindi nel calcio ci trovi la vita di tutti i giorni e nella vita di tutti i giorni ci trovi il calcio. A me piace come si esprime ad Ani, ma tornando a questo escursus per dire che mi piacciono, voglio dire, sti cazzi, parliamo della Roma, giustamente, ha parlato di Danieri e dei Fritkin e ha detto, i Fritkin non mi sono piaciuti per niente, secondo me questa è un'altra mossa paracula, la Roma aveva bisogno di un'altra figura, adesso si è preso lui ma aveva smesso, aveva detto lui che aveva smesso, era un ex allenatore e si è andato a prendere un 73enne quando la Roma aveva bisogno di una figura diversa, di una figura che sapeva insegnare calcio, che sapeva creare il futuro da qui in poi, invece ha messo un allenatore che già parlato a dirigente, è una cosa oscena, i Fritkin hanno fatto una scelta paracula l'ennesima perché non volevano richiamare dei rossi e hanno scelto qualcuno per tenere buona la piazza. Allora, devo dire, non siamo d'accordo naturalmente con questa visione, però non è nemmeno una visione così troppo forzata, cioè da Cassano ci possiamo aspettare ben di più, perché? Perché chiaramente chi non vive l'ambiente Roma non può capire l'importanza di un personaggio come Danieri, l'importanza delle parole che lui ha detto la settimana scorsa, in quella conferenza, quanto è importante per noi la riconoscenza, l'appartenenza, il avere una persona come Claudio Danieri che sappiamo, lui tiene tantissimo alla Roma, un tifoso come noi, uno di sangue, di cuore come noi, è importantissimo. Poi, tra virgolette, non stiamo parlando di un tifoso come noi che però si siede sulla manchina e come ciò fa, però anche io ho detto che non era tutto, non era tutto, tipo romano, cioè stiamo parlando di un umano che ha girato il mondo, che ha imparato lingue, che si è fatto rispettare, che ha raggiunto grandi obiettivi, poi sì, aveva smesso, aveva smesso, tipo sei mesi fa, quattro mesi fa, da quanto ha smesso? Cioè non è che stiamo parlando di uno che per dieci anni non ha visto calcio e poi dopo, vabbè, viaccia da una mano, Oronzo Canà. Quindi questo discorso lascia un pochino il tempo che trova. Io capisco che però a guardarla da lontano, o comunque se volevi un allenatore che portava da subito un gioco diverso alla De Zervia, alla Guardiola, non sei stato accontentato. Però adesso, in questo momento, una scelta come Danieri che ti dà sicurezza per il presente, perché tu sai che hai qualcuno che sicuramente cercherà di dare una scossa, che 9 volte su 10, stavo leggendo ieri, ci è riuscito a dare una scossa con le squadre che ha preso in corsa due volte su due con la Roma, ci è riuscito. Quindi sai che sa dare la scossa, che è romano e romanista, che sa farsi apprezzare dal gruppo, che sa farsi trasportare dal gruppo, che sa trasportare la gente, che sa farsi amare dalla gente, che sa riunire tutta la piazza in un tutt'uno. Chiaramente è una mossa giusta. Poi può essere paracula o no, questo non lo sappiamo. L'anno scorso era una mossa, cioè non lo sappiamo, immaginiamo di sì, anche l'anno scorso la scelta di De Rossi è stata una scelta paracula, ma fino al 18 settembre di quest'anno si era rivelata una scelta giusta, perché comunque sia la Roma aveva ritrovato, aveva mantenuto unione e aveva ritrovato anche risultati importanti. Quindi speriamo che questa cosa si possa naturalmente replicare nel presente, e noi abbiamo provato a immaginarlo in uno speciale creato proprio su Claudio Danieri, che vi chiedo di recuperare se non l'avete visto, però è anche un piccolo passo per il futuro. Perché? Perché a Danieri, non a Danieri, ai Fritkin gli è sempre stato un po'... sono stati un po' richiamati sul fatto che non conoscessero benissimo il calcio, non conoscessero benissimo la piazza, non conoscessero benissimo cosa importante per il tifoso romanista. E adesso mettere un uomo come Claudio Danieri in società fa solo che bene, perché magari può sopperire a questi problemi che abbiamo visto da qui in avanti, quindi è importante anche per il futuro. Abbiamo dedicato forse anche troppo tempo ad Antonio Cassano, che se avesse avuto capacità di analisi pari alle sue qualità nel campo, sarebbe stato il numero uno in discorso, probabilmente sarebbe diventato un allenatore straordinario, ma invece preferisce sparare sentenze su un sofà. Ma comunque a me mi fa divertire, quindi me lo guardo pure, gli do il peso che bisogna dargli. Ragazzi, fatemi sapere cosa mi pensate naturalmente in merito a questo, se volete rispondere a Cassano, se volete sognare insieme a me un approdo di Henrik alla Roma, o se secondo voi Umel se lo sta facendo apposta o è popolo di legno, o forse vuole godersi semplicemente la moglie, chiamatelo stupido, non so se l'avete vista. E niente, fatemi sapere qui sotto, noi ci vediamo domani, mi raccomando, come al solito vi ripeto e vi ricordo di seguirci su tutti i canali social, Instagram, mettete questo iscriviti su YouTube, attivate la campanella, seguiteci tutti i giorni. Noi ci sentiamo domani, un bacione, ciao!